In attesa di avere i risultati dello scrutinio delle elezioni regionali, possiamo già dare gli elementi dell'affluenza alle urne. Diciamo che c'è stato, rispetto alle elezioni di quattro anni fa, un aumento della percentuale dei votanti di oltre il 2%. Era 64,33% nel 2010, oggi è stato 66,43%. Un effetto di trascinamento che è probabilmente dovuto alla concomitanza sia con le elezioni europee, sia soprattutto con le elezioni amministrative che hanno riguardato poco meno di 900 comuni in Piemonte, che sicuramente ha aiutato l'affluenza alle urne. 66,43% è la percentuale in tutto il Piemonte, tra le province si distingue Cuneo che ha il 68,71%, mentre invece in coda tra le province c'è Verbano Cusiossola con il 61,85%. Le altre province si collocano più o meno nello stesso range. Alessandria 64,95%, Asti 65,07%, Novara 66,2%, Torino 66,54%, Vercelli 66,02% e Biella ha un'incollatura da Cuneo 67,99%. Una percentuale di votanti quindi abbastanza alta anche considerando il fatto che rispetto a 4 anni fa si è votato soltanto per una giornata, mentre invece 4 anni fa si era votato anche la seconda giornata del lunedì.